Modernità, sviluppo e qualità sono questi gli elementi che secondo il Cavalier Giovanni Arvedi, presidente dell'omonima azienda, sono propri dell'acciaio e del suo sviluppo futuro. L'acciaio come voi sapete è un elemento importantissimo ed essenziale per un paese moderno. Un paese moderno è un paese che usa una quantità di acciaio notevole, per cui l'acciaio è alla base dello sviluppo di un paese. In Italia l'acciaio è prodotto in grande quantità, siamo il secondo produttore europeo e ci stiamo difendendo in tutti i modi cercando di mantenere la nostra competitività. Un problema aperto nel mondo della produzione di acciaio anche per Arvedi è quello legato alle materie prime ed in particolare al rottame. Oggi il rottame, voi sapete bene, ha assunto dei prezzi molto alti. Il rottame deve riprendere una proporzione naturalmente anche con il minerale e quindi il rottame deve ricondurci a dei prezzi più ragionevoli. In questo contesto noi stiamo producendo dei prodotti piani di qualità, di alta qualità e di prodotti particolarmente sottili che riusciamo a esportare e riusciamo per adesso ad avere il lavoro necessario. Qualità che deve essere globale, come testimonia anche il recente progetto avviato da Arvedi in Brasile, i cui ultimi dettagli sono ancora in corso di definizione. Sì, il progetto brasiliano è un piccolo progetto che segue la fornitura di alcune società nostre già clienti nel settore dell'automobile in Europa e che seguiamo in Brasile portando dei tubi di alta qualità. E teniamo soprattutto nel settore dell'automobile, bisogna seguire i nostri clienti europei anche in altre parti del mondo con i prodotti soprattutto di qualità.